Hai bisogno di qualcuno che le dia una pulita? Come va? Tutto bene all'interno? Buongiorno, eh. Scusi, una giornata... Eh, mi devi tossire il covid addosso. I next quit. Bellissimo il nome. Non è che posso pulire tipo il gabinetto con la... Scusi! Oh, mi posso improvvisare. Meccanico! Oh! Ma è un'idropulitrice. Guardi che la tua auto era anche già pulita prima. Ahio, c'è un ladro! Ma ti pare il caso? Sì, devo pagare la bolletta dell'acqua e la bolletta dell'elettricità. Signori, sono passati ben sei mesi dall'ultima volta che ci siamo fatti una pompa, un gioco con una pompa di benzina, meglio specificare. E nei commenti mi avete suggerito questo Pumping Simulator 2. Non sarà Gas Station Simulator ma le meccaniche saranno ovviamente le stesse. Cosa potrebbe mai andare storto se giochiamo al cugino un po' più sfigato? Non che Gas Station Simulator fosse stato programmato a regola d'arte. Era molto, molto, molto limitato. Ok, le nostre avventure iniziano all'interno della nostra casa che è vuota da far schifo perché siamo poveri come la M. Ok, mi dicono dalla regia che dobbiamo seguire il tutorial e qualcuno mi ha mandato un'email. Madre! Ciao figlio, tuo padre è morto e ci ha solo lasciato quella macchina. Abbiamo bisogno di soldi. Pertanto vendi la macchina e vai a trovarti lavoro, altrimenti non so quanto riusciremo a tirare avanti. Madre! Scusi, ma non è che lei magari è in ca... Porca misera! Madre! Cosa ci fa qua dentro? Madre, tutto bene? Come stai figlio? Sto bene madre, tu? Io sto bene figlio, ma ho bisogno di prendere pillole. Eh, madre, non abbiamo le pillole. In effetti ha una barretta dello stato mentale che è a 50, quindi molto probabilmente dobbiamo comprare le droghe a nostra madre. Ho capito. Metti la macchina di famiglia in vendita. Il nostro garage è qua dietro. Ecco fatto. Ottimo. Sì, ma chi la compra? Come fanno a sapere che è in vendita? Non dovremmo tipo mettere un annuncio o qualcosa? Non lo so nemmeno io. Vabbè, mi dicono di aspettare che arrivi l'acquirente. Intanto sto qua a godermi la giornata. Prima o poi qualcuno spunterà. Sì, sì, tranquilli che la pompa di benzina sta per arrivare. Ho visto un tizio. Ah, buongiorno. Scusi, lei da dove compare? Sono venuto qui per comprare tua macchina. Benvenuto. Mi dica di cosa hai bisogno. Quale prezzo avevi in mente? Guardi, 3925 dollari. 33808 va benissimo così. Yeeey, ottimo. Ora possiamo praticamente prendere l'autobus per raggiungere la nostra pompa di benzina che è il luogo che ovviamente stiamo per comprare. Ci sono diversi luoghi come il bazar, il nightclub, brighella, il rivenditore di auto e il magazzino. E ovviamente ogni volta che prendiamo l'autobus dobbiamo anche spendere 10 dollari. Per adesso raggiungiamo ovviamente la pompa di benzina. Dove boia è... Wow! Ok, direi che ha visto decisamente giorni migliori. Quanto mi costa? 1185 dollari. Paparapam! Perfetto. Mi dicono dalla regia che dobbiamo liberarci di tutta sta monnezza e la dobbiamo buttare nel bidone laggiù. Minchia, ragazzi! Se ci riprovo un milione di volte non ci riesco. Alcuni oggetti li possiamo vendere ricavandoci una minima somma di denaro. Altri invece verranno tramutati in monnezza che dobbiamo sempre lanciare laggiù. Porca miseria! Per pochissimo non ce la facevo. Ok, tentativo numero due. Ce la farà il telone! È un tiro... No, de merda. È un tiro veramente de merda. In realtà lo spazio che abbiamo a nostra disposizione è tanto. Ci verrà fuori la super mega pompa di benzina con tutti gli accessori e via dicendo. Verrà fuori una roba veramente incredibile. Dai, che era quasi perfetto però! Ma mi sale un disonore veramente incredibile. Oh, 33 metri! Ok, ok. Questa è attualmente la nostra pompa di benzina principale. Facciamo finta di niente, figlioli? Facciamo finta di niente. Ok, dovrei aver ripulito praticamente tutto. Fatemi scaricare il resto della monnezza lì dentro. Et voilà! Mi dicono di chiamare il veicolo della nettezza urbana. Ecco qua. Ok, dobbiamo aspettare. Ah, arriva direttamente dalla collinetta. Ci sono peraltro numerosi attrezzi. Qua terra, tra cui una mazza da baseball, l'air freshener, il deodorante ambientale, il martello e ovviamente la scopa per pulire. Tuttavia mi dicono di continuare a seguire il tutorial. Scusi, ma le devo dare una mano io, per davvero? Ma porca la miseria. Apposta! Ci levi dai maroni. Ottimo! Ora mi dicono di equipaggiare il martello. Sì, ragazzi, questo gioco avrà meccaniche molto ma molto greze. Perfetto. Devo riparare il negozio. Mi costerà 200 dollari. E para papà! Wow! È uno schifo! Porca miseria! Mi sale il tetano anche solo a guardarlo. Ma stiamo scherzando. Ok, ora devo riparare il tetto della pompa di benzina. Sempre utilizzando il martello. Vediamo un po'. 250 dollari. E ole! Ok, con un martello ti faccio dei miracoli e qualcosa di assurdo. Ripariamo la pompa di benzina. Wow! Minchia, a quanto pare sono MacGyver e non lo sapevo. Una singola pompa. Peraltro, scusate, il negozio è lì. È la pompa laggiù. Ma chi cocchio l'ha sviluppato sto posto? E... Oh mio Dio! Scusate, questo è il nostro gabinetto? C'è già una bella macchia di urina a terra inclusa nel prezzo. Cosa vuoi di più dalla vita? Mi dicono di aprire il tablet e su Zonama... Ah, è Amazon scritto al contrario. Dobbiamo ordinare un registratore di cassa. Ottimo. Shipping cost 50 dollari? Ma siete scemi nel cervello. E tutti gli ordini di Amazon e Zonama verranno consegnati direttamente qua. Oh, ecco che arriva il corriere. Bartolone, forza, si muova. Minchia ciccio, ma utilizzare un veicolo la prossima volta? No, eh? Ah no, l'ho lasciato. Ah, beh, l'hai anche mancato. No, aspetta, ok, è qua. Perfetto. Lo dobbiamo piazzare direttamente qua dentro. Olè! Apriti sesamo. Gesù! Sembra di essere entrati in un luogo in cui i tossicodipendenti hanno dato il peggio di sé. Questo è poco ma sicuro. Allora, dobbiamo ordinare la benzina sotto station. Devo dirgli io quanto. Eh, fa il pieno a sto punto. Order. Perfetto. Quindi adesso il veicolo di rifornimento compare da là in cima alla collina e pian pianino. Wiii! Dovrebbe arrivare fino al nostro serbatoio che per adesso sarà qualcosa di elementare e basilare. Mano a mano che andremo avanti, come tutte le cose, lo potremo upgradeare in modo tale da aumentarne la capacità. E come potete notare qui abbiamo anche un autolavaggio automatico e qui sarà una sorta di meccanico. Probabilmente possiamo sollevare i veicoli e ripararli laggiù. Non so nemmeno cosa potrebbe accadere. Buongiorno signore. Vediamo di tenere il premuto. Eh? Ottimo. Così il serbatoio è pieno. Mi dicono di aspettare che arrivi un cliente. Ma posso anche recuperare il resto degli strumenti? Il gioco dice no! Il tutorial, lonino! Il tutorial! Ed in effetti sta arrivando qualcuno! Signora, come cocchio guida, scusi? Dovrebbe tipo arrivarmi qua? Ce la può fare? Eh! Sì, ma ha tipo accelerato sul finale? Mi sono un po' cacato. Ok, perfetto. Ha parcheggiato. Prendiamo la pompa. Gliela zgnachiamo dentro senza il benché minimo rispetto. E c'era un indicatore della percentuale. Quando arriva al 100% la signora è pronta per pagarci. Signora, credo che qualcuno con un attacco di diarrea si sia sfogato sulla sua macchina. Purtroppo non gliela posso lavare. Mica è lenta sta pompa! No, vabbè, ma ci vuole tutto il giorno qua. Ce l'abbiamo così fatta! Signorina, scusi, eh. Io e lei siamo qua da 5 minuti che ci fissiamo sugli occhi. Cioè, io le sto guardando le tette, ma vabbè, dettagli. Non si offenda! Le tiene così esposte, scusi, eh. Mi arrivi qua in bikini e poi ti incazzi se ti guardo le tette. Scusa, la porta a pazienza. Ottimo. Che devo fare? Adesso stogliere via il tutto. Reinserirlo lì. Ottimo. E ora la tizia deve farsi 826 chilometri fino al negozio per pagare. Ok. Per arrotondare più avanti potremmo anche mettere diversi stand con snack e chi più ne ha più ne metta, bibite e via dicendo. Per cercare di arrotondare un ciccinino. 89 dollari. Tieni premuto E. A posto. Potevamo anche fare senza scontrino, ma vabbè, dettagli. Yeeey! Il mio primo cliente se ne va via soddisfatto e non ha neanche fatto esplodere la pompa di benzina. Mi dicono di ordinare su Amazon un'altra pompa di benzina. Sì, ma non posso continuare a buttare via 50 dollari. A botta. Non è che posso tipo comprare un gabinetto. Gioco dice manco per il cocchio. Sì, me lo fanno effettivamente ordinare. Prima o poi un gabinetto serve, in effetti. Sì, sentite, io metto le mani avanti, compro anche un ripiano. Perfetto, ordina tutto. Speriamo ovviamente di non aver buggato il gioco. La signorina intanto se ne è andata. E nel frattempo dal fitto della foresta stanno arrivando i corrieri Bartolone. Scusi, ma perché c'è bisogno di tre corrieri per tre pacchi? Come funziona sta roba? Ok, grazie signore. Ottimo, questa è la pompa di benzina che possiamo installare direttamente qua. Ottimo. Ora possiamo servire due clienti nello stesso momento. Mi dicono order closet. Ma l'ho tecnicamente già ordinato. Oh no. Non dovevo ordinarlo prima. Ok, voglio fare una prova. Mi sa che ho fatto una cagata delle mie. E ora ho tipo buggato la vita. Vediamo un po'. Oh no. Oh, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Ok, peggiore delle ipotesi. Lonino, hai un secondo gabinetto che prima o poi tornerà utile. Oh, mi sa che devo rifare tutto da capo. Beh, intanto nessuno mi vieta di installare uno scaffale direttamente qua. No, scusi, perché non me l'ha installato? Grazie molto gentile. Devo puntare e quando il simbolo diventa verde siamo a posto. Cioè, detto tra noi, io non mi fermerei mai in una stazione di servizio del genere. Ok, ecco che è arrivato il Corriere Bartolone. Ottimo. E a posto? Sì, ma l'ho già installato. Come la mettiamo? Dimmi che c'è un modo per rimuoverlo. Oh, sì, sono riuscito a toglierlo. Sono riuscito a toglierlo. Bene, bene, bene. Prendi il coso e rimettilo là. Quindi non c'era bisogno di riordinarlo due volte. Ma porca di quelli per porca. Nel frattempo sta passando tutta la giornata alla velocità della luce. Oh mio Dio, il buiume. Sì, di notte questo luogo è altamente inquietante. Mi dicono che forse è meglio andare a casa. Potrei tenere aperto la notte. Ma arrivano veramente pochi clienti. Quindi non vale la pena. Ah, casa dolce casa. Dove a quanto pare non ci sono nemmeno i mobili. Ma vabbè, dettagli. Apri. Madre! Ma non abbiamo una luce in casa? Non vedo praticamente... Spavento! Salve, lei chi è? Ah, la mia ragazza. Ciao, tesoro, come va tutto bene? Sì, 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 sì. No, non ti ho comprato nessun regalo. Ma porca la miseria. C'era la barretta dell'amore. Se non le porti i regali, la tua donna non ti ama. Questo gioco è molto educativo. Chi è che mi chiama adesso? Dai, che stavo dormendo. Ah, no, era la mia sveglia? Ma che rottura di maroni. Perfetto. Vediamo di ritornare alla fermata dell'autobus. In futuro potremmo ovviamente comprarci un'auto. E facciamo un saltino alla stazione di servizio. La mappa è liberamente esplorabile, per inciso. Perfetto. Siamo pronti ad iniziare una nuova giornata lavorativa. E mi dicono di ordinare una mensola. Tecnicamente lo avrei già fatto. Ribadisco che costa storia di 50 dollari, però. Sì, ma te sei un imbecille. Ci credo che la tua famiglia è rimasta senza denaro, peraltro. La signora di prima mi ha dato quattro stelle, ma mi ha detto che il pavimento è in condizioni pietose. Signora, anche il resto è in condizioni pietose, ma vabbè, dettagli. Dai, Bartolone, muoviti. Posso strapparti via il pacco dalle mani? Dicono di no, purtroppo. Ah, a posto. Grazie, Deliveroo dei poveri. E lo sniechiamo in parte... Perché non diventi verde? Ecco qua, al precedente. Mi dicono di ordinare della Coca-Cola sempre da Zonama. Perfetto. Wow, ci sono un bel po' di... Sì, ma sempre 50 dollari! No, ma col cocchio! Cioè, ordiniamo anche qualcos'altro. Nel frattempo, un po' di Coca-Cola. Delle sigarette. Beh, le bevande andrebbero messe non qui, perché sennò sono calde, ma vabbè, dettagli. Ordinami anche del tonno e dei... Magari il tonno costa un po' troppo? Sì, un po' troppino, in effetti. Allora, toglimi le scatolette. E mettimi delle patatine. Ottimo. Barrette di cioccolato. E speriamo che mi avanzi poi abbastanza denaro per finire il tutorial. Altrimenti mi sono di nuovo softlockato fuori dal gioco. Oh mio Dio! È un'armata di corrieri bartoloni! Io volevo solo un po' di Coca-Cola. Grazie, molto gentile da parte sua. Mi dicono di piazzare il tutto sugli stand. Vediamo un po'. Tengo premuto... Che succede? È arrivata la polizia all'improvviso. Se notate bene, pian pianino, li stiamo aggiungendo direttamente là sopra. Ma che figata! Quindi posso aggiungere anche i cereali? No! Ma è bellissima sta cosa. È molto più personalizzabile di Gas Station Simulator. Bello! Bello! Il telone approva. Oh mio Dio! C'è veramente un poliziotto? Salve agente! Guardi che non c'ho merce di contrabbando. So che questo potrebbe sembrare un luogo di spaccio. Non ho trovato nulla di illegale. Ma si è guardato attorno, signore! Ho tipo violato tutte le norme igienico-sanitarie. Facciamo finta di nulla che è meglio. Ok, il tutorial è finito. Posso prendere gli oggetti? Oh, mi piace quello che vedo. E sto gabinetto però adesso lo lasciamo lì. Quindi possiamo dare tipo una pulita. Ok, direi decisamente molto ma molto meglio. Va da sé che più avanti potremo ovviamente avere del personale che ci potrà dare una mano in modo tale da dividere al meglio tutti i vari compiti. Ok, adesso il pavimento è molto ma molto più pulito. Infatti in parte alla barretta del denaro c'è anche quella che indica quanto è sporco. Cude in sto luogo. Ecco qua, molto meglio. Nel frattempo è arrivato un altro cliente che ha deciso di andare al bagno. Contento lei! Dovrei mettere in ingresso lasciato ogni speranza a voi che entra... Oh, maronne! L'importante è che funzioni. Intanto direi di andare a rompere i maroni al tizio. Signore, che sta facendo? Sta facendo la pipì? Ha bisogno di un aiutino? Ha bisogno di qualcuno che le dia una pulita? Come va tutto bene all'interno? Perfetto, sono contento. Sicuro che hai fatto solo la pipì, vero? Ok, sembra tutto ancora pulito. Mi posso fidare? Ottimo, nel frattempo abbiamo finito di rifornirlo. Signore, lei dovrebbe venire dentro a pagare? Scusi? Ma perché non è andato direttamente là? Buongiorno, eh. Scusi una giornata... Eh, mi devi tossire il covid addosso. Porti pazienza. Ok, intanto che riforniamo questo, vediamo di far pagare questo cliente. Ribadisco che siamo troppo distanti però, cos'è sta storia? Ok, ok, ok. Ora ragioniamo. Aspetta, come funziona sto giochino? Devo fare bip e poi butto lì e bip, poi butto lì e tengo premuto E. Ma che figata assurda! Poi arriva il prossimo cliente, mette gli oggetti, bip e siamo a posto. E ha pagato anche la benzina? Ottimo! 208 dollari. Me ne serviranno decisamente... Beh, non li ho raccolti. Dicevo, me ne serviranno decisamente molti di più. E loro vanno via col sacchettino della spesa. Ah, ma che cosa carina. Allora, vediamo un po' dal nostro menu di station. Abbiamo ancora il 68% di benzina. Mi sono dimenticato del tizio! Ah, è arrivato adesso al 100%. A posto. Errimo. Gnacca di nuovo tutto qui. A posto. Oddio! Ho visto cose brutte! Che succede? Signore, cosa mi ha combinato qua dentro? Non ho neanche lo Sturaccessi. Gesù! Proviamo a spruzzare un po' di deodorante. Magari recuperiamo un po' la situazione. E neanche troppo. C'ha la merda che fuma, sto tizio. E mi hai anche inquinato a terra. Aio, ciccio! Ma stia scherzando. Perché bisogna delle spazzature dall'altra parte. Allora, vediamo intanto di ritornare alla cassa. I next quit. Bellissimo il nome. E un altro cliente soddisfatto. Perfetto. Ma! Aspetta un attimo! Ma mi ha buttato la lattina a terra! Ha pagato e ha buttato la lattina a terra! Ma sei un pezzo di erba! Ma perché i clienti peggiori? Ce li ho sempre io. E butta dentro. Ma ti pare il caso? Dobbiamo comprare un bidone della spazzatura? È abbastanza ovvio. Vada via, inquinatore seriale! Ottimo! È arrivato intanto un altro cliente. Sempre col Covid. Perfetto. Nel frattempo abbiamo accumulato 365 dollari. Domanda da un milione di dollari. Posso riparare questo? E... Parapapà! Ok. Possiamo offrire anche servizi come meccanico. Cosa potrebbe mai andare storto? Me ne serviranno 400 per riparare l'autolavaggio automatico. Se avete notato bene inoltre le strutture sono upgradabili per un tot di volte mi pare fino a un massimo di 5 che ne migliorerà ovviamente l'efficacia, l'efficienza, le ingrandirà e chi più ne ha più ne metta. Ok. Abbiamo quasi finito. E voilà! 100% signore. Le va dalla cassa a pagare intanto. Bravo ciccio. Ottimo. E anche questa è fatta. Non è che posso pulire tipo il gabinetto con la... Scusi! Ma stavo pulendo il gabinetto. Ma le pare il caso? Mi sono spaventato. Mi è comparso tipo all'improvviso. Ok. Ma c'è finita di nulla? Andiamo intanto a servire il prossimo cliente. Mio Dio. Questa stazione di servizio emana un livello di poracitudine. Come mai prima? Adora... Aspetta! Ditosirmi in faccia! Metta la mascherina! Il distanziamento sociale! Tutte cose! Aspetta! C'è un cliente alla cassa! Non mi ero accorto! Signorina scusi eh! Stavo guardando il cellulare nel gioco non nella vita vera. Ecco qua. Fanno 9,58. Perfetto. Avatti il prossimo che non c'ho tutto il giorno. Questo deve anche pagarmi la benzina. E le sbringles. E... Voila! Oh! E possiamo ottenere i 79 dollari. Non posso comprarci praticamente nulla. Direi di tenerli da parte. Caso mai. Quello dovessimo comprare della benza. Signore! Ma lei è ancora lì dentro. Scusi. Oh Gesù! Ok. Fammi provare a prendere la scopa. Vediamo un po' se funziona. No. Non mi sembra che stia ripulendo il gabinetto. Ho visto che nel menu c'è una spugna. Ma ancora non me l'ha sbloccata. Aspetta. Probabilmente la dobbiamo comprare da Amazon. Scusi. 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 Non mi ero accorto che lei mi stesse attendendo qua dentro. Oh. Almeno stanno comprando la merce extra. Che cosa buona e tanto giusta. Spero che la stiano pagando anche abbastanza bene. Devo scoprire come alzare i prezzi. Oh! Mi posso improvvisare. Meccanico. Non può finire bene. Cosa che devo fare? Devo riparargli le ruote. Oh maronne. Ma è la cosa più lenta della vita. E voilà. Ottimo. Ora ovviamente. Un attimo. Ho sentito che ha sotto il clacson. Devo reinserire tutte le viti. A posto. Aspetta. Ottimo. E oddio. Devo farlo anche da quest'altra parte. Non so cosa succederà. Tuttavia. Se faremo aspettare troppo a lungo i nostri clienti. Probabilmente. Ci daranno una recensione negativa. perché la gente non capisce che deve aspettare e non mi deve rompere i maroni. Allora abbiamo 166 dollari. Vediamo un po' quanto mi pagano. A posto. Lei parta pure. Oddio la macchina sta scendendo. Oh 100 dollari. Mi hanno dato praticamente 50 dollari a ruota. E voglio dire questo è un guadagno puro. Perché non ho dovuto mettere nessuna parte del capitale. Il cliente mi sta aspettando. Sì all'interno del negozio. Io devo darmi una mossa perché la giornata lavorativa è praticamente quasi finita. Ecco qua. E mi paghi anche la benza. Et voilà. Abbiamo 346 dollari. Però se ho visto bene mi hanno già fatto fuori un intero scaffale di merce. Non so se ordinare altri prodotti. Anche se onestamente dovremmo ordinare un bidone della spazzatura. Allora fatemi dare un'occhiata. Oh oh. Dovremmo anche ordinare del carburante. Ah eccoli qua. Prezzi. Aumentiamo un attimino il prezzo del carburante. Della merce e delle riparazioni. L'autolavaggio per adesso non è operativo. Vedete questa è la schermata che ci permetterà di assumere dei nuovi dipendenti. Però come potete notare hanno un compenso giornaliero. Che dipenderà anche dalle loro abilità. In questo caso hanno una singola stellina. Aspettate che nel frattempo sono arrivati altri clienti alla cassa. Sì però facendo così non ci guadagniamo niente signora. Non sono il cassiere del Conad. Porti pazienza. Ok questo doveva probabilmente anche pagarmi la benza. Oh poi a posto e saluti a casa. Ah scusi mi ero completamente rimetticato di togliere la pompa. Era lì che mi guardava e non capivo. Ero un attimino confuso. Ottimo può ripartire anche lei. Sì ma non investitevi. Ci sono quasi messi sotto sti due idioti. Allora se mi date dieci secondi. Io provo a fare un po' di ordini. E che cocchio. Zonama extra. E mi fanno il 20% di sconto. 249 dollari settimana. Però non paghi le spese di spedizione. Non devi attendere. Ma 249 dollari non sono pochi. Va bene ragazzi. Per guadagnare bisogna spendere purtroppo. E io ho speso veramente un sacco. Ora possiamo tranquillamente ordinare tutto quello che ci potrebbe servire. Come ad esempio. Un bidone della spazzatura. Per la modica cifra di 115 dollari. Ma mi prendete in giro? Ok. Ok. Ordina. Questa volta non paghiamo le spese di spedizione. E dovrebbe anche arrivarmi tutto subito. Oh scusi signore. Non mi ero accorto. Dobbiamo cambiare un'altra gomma. In teoria. Potenziando questa struttura. Più avanti. Ne aumenteremo sicuramente anche la velocità. Una cosa ve lo garantisco. Questo sarà uno di quei lavori. Che assegnerò a un dipendente. Non c'ho voglia di stare qua tutto il giorno. Però non possiamo dire di no a 50 dollari. Praticamente. A gratis. Ok. Nel frattempo stanno calando le tenebre. Aspetta. Aspetta che è arrivato il bidone della spazzatura. Che possiamo mettere direttamente qua. Oh. Meno male. Ci sono posti fissi. Che succede? Ah ok. Sono calate le tenebre. Il gioco dice dovresti tipo andare a casa a dormire. Visto che a prescindere pochissimi clienti arrivano la notte. Nel frattempo mi è arrivata anche una mail. Vabbè ne approfitto giusto un paio di minuti per rifornire qualche cliente. E guadagnare un paio di dollari extra. Che è tanto schifo. Non mi farebbe. C'è un cliente alla cassa. Si vede nulla. Noi siamo finiti. A silent hill all'improvviso. Sì signora lo so è inquietante. Non abbiamo nemmeno un sistema di illuminazione e tutte cose. Diciamo che la nostra stazione di servizio è un luogo in cui potete anche vivere un'esperienza molto singolare. Cerco di cavarmela così. Non funzionerà mob. Guarda monnezza che c'è qua a terra. Posso buttarlo anch'io nel cestino? Sì in effetti. Lo so che sei stanco ciccio. Finiamo di servire. Ho capito. Finiamo di servire gli ultimi clienti. Incassiamo il denaro. E chi si è visto si è visto. Ecco qua. Direi decisamente molto meglio. Dimmi che questo è arrivato al 100%. Ottimo signore. Mi dia direttamente qua il denaro. Facciamo. Facciamo anche senza lo scontrino. E che cocchio. Oh mio Dio. Ho detto facciamo senza lo scontrino ed è arrivata la polizia. Ma cos'è? Mi sentono. Questa è stata abbastanza inquietante per dover di cronaca. Signora non si metta a comprare puttanate alle 11 di sera. Per favore. Venga a pagare. Ma porca miseria. C'ha voglia della bibitina adesso. E cliente numero 2. A posto. Altri dindini. Sì lo so ciccio. Ora andiamo a dormire. Domani mattina ordiniamo anche altra benza. A posto. Altri 64 dollari. Agente per favore. Oh si levi dai maroni. Ah station open. Station closed. Ok. Ora me ne posso andare a casa. Tanto i clienti mi hanno pagato. E chi si è visto si è visto. Torniamo a casa. Da madre. Cosa succede? Sei già qui. Ah sì ho sbagliato a cliccare. Scusi dovevo andare a casa. C'ha ragione. Ok. Questo gioco è un'esperienza molto più difficile e traumatica di quanto mi sarei immaginato. Sì ma amore non puoi star ferma lì nell'oscurità eh. Porta pazienza. Mi ha messo un'inquietudine incredibile. Vedete noi abitiamo qua. Io fisicamente potrei mettermi a camminare o con l'auto e via dicendo. E andare alla stazione di servizio. Spera salva la partita. Semmai che sto gioco non abbia i salvataggi automatici a fine giornata. Non abbiamo ottenuto neanche una stellina con il nostro servizio. Io sto cercando di fare del mio meglio. Però figlioli sono partito praticamente senza capitale. Allora ritornando a noi. Devo aprire la stazione di servizio manualmente. Ok. E dobbiamo anche rifornirci di carburante. Senti ordina 230 dollari. Perché altrimenti non so nemmeno io cosa pompare nelle auto dei clienti. Ci posso pisciar dentro ma non credo sia la migliore delle idee. Ah eccola qua. Spugna 18 dollari. Oh meno male. Aspettate che la ordino. Ottimo. E ora devo anche consegnare tutto il carburante. Sbadoinkate. Meno male. Beh è molto più veloce di gas station simulator da quel punto di vista. Guarda come corrono adesso i corrieri. Mi restano 4 dollari sul conto in banca. Io non dico nulla. E vabbè mussa anche la spugna. Come faccio a equipaggiarla? Beh. F2 take 1. Ah posto? Yeeey. Ora posso pulire i gabinetti. Che nel frattempo stanno accumulando una quantità spropositata di lattine. Ma vabbè dettagli. Pulisci. Perché non si sta pulendo? Non si sta pulendo ma proprio per nulla? Oh no. Senti. Spruzzaci dentro un po' di deodorante per ambienti. E casomai. E casomai diamo una pulita al pavimento. E via. No no. Non riesco a pulirlo ma proprio per niente. Oh. E adesso resterà anche l'effetto bollicine. Signora no. Non vado in bagno. Io glielo sconsiglio caldamente perché non esce viva. Ma posso tipo pulire la macchina? No. Non può essere fatto qui. Però può essere fatto giustamente. Me lo fa notare il gioco. Se quest'oggi riusciamo a guadagnare abbastanza denaro. Possiamo cercare di sbloccare casomai questa postazione. Vediamo un po' quanto mi costa. 250 dollari. Oh. Mi metto a lavarle auto. Hai visto mai? No. La spugna era qui. Aspetta. C'è anche il tubo dell'acqua. No. Ho speso 20 dollari di spugna per niente. Non posso tipo pulirci i pavimenti. Oh. Ma è un'idropulitrice. Ok. Questa non me l'aspettavo. Apri la porta. Apri la porta. Dimmi che possiamo ripulire anche il gabinetto in qualche modo. C'ho l'acqua che va un po' dove gli pare. Piace? Il gabinetto è marcio eh. Ragazzi il gabinetto ormai è marcio. Non c'è nulla che possiamo fare per lui. Ok. Intanto è arrivato un altro cliente dall'aspetto molto muscoloso. Signore. Che buia di colore ha la sua auto? Una tristezza appalata. Ah. Possiamo anche chiedere un prestito in banca? Oh. Ma guarda un po'. 1000 dollari. 2000 dollari. Però aumentano gli interessi. Praticamente ogni giorno. dobbiamo restituirgli 38 dollari. Ma io un prestito lo chiederei eh. Mi manderanno un'email qualora il prestito venisse approvato. Ok. Oh porca miseria. C'erano dei clienti alla cassa. Non mi ero accorto. Vediamo un po' se mi ritrovo con 1000 dollari in più sul conto in banca. Posso iniziare a sbloccare? Un po' di strutture serie. E magari anche qualche altro potenziamento. Yeeey. Denaro. Hai ricevuto un'email. Wow. Ho ricevuto anche un sacco di denaro nel frattempo. Bene 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 bene. Allora vediamo quindi di ricostruire anche questo. Vai. Sono cagato in mano. Ma sei scemo nel cervello. Oddio potremmo riparare anche questo. Ma sì dai cerchiamo di far ripartire tutte le strutture. Yeeey. Abbiamo usato anche l'autolavaggio. No. Magari l'upgrade lo rimandiamo giù su un cicinino. Possiamo migliorare la pompa di benzina? Sì ma non mentre occupata dice gioco. Pazienta telone. Ah. Ora ho capito perché abbiamo sentito quel suono. Abbiamo ottenuto la prima stellina. Yeeey. Sì ce ne mancano altre quattro. Però almeno non mi stanno più inquinando il pavimento. Cioè è ancora tutto slercio. Non dico di no. Ma come ho detto almeno non buttano più le lattine da queste parti. Che poi detto tra noi se io volessi migliorare il bagno 800 dollari. La fetta di culo è inclusa. E la nostra stazione di servizio altri 800 dollari. Eeeh. Aspetta e spera. Me ne sono dimenticato di nuovo. Scusate scusate. Lo so lo so lo so. Sono un pessimo benzinaio. Anche lei però potrebbe cavarla da solo eh. Ma è che serve una laurea porca la miseria. Ma dimmi te. Ma non schiantatevi tra di voi. Dove state andando? Ah ok. E quattro gomme. Ci metterò una vita. Mi sento preso per il culo. Mi sa che l'altro cliente che ho visto appena passare. E' andato all'autolavaggio qua davanti. Oh. Comunque quattro gomme vuol dire 200 dollari eh. Vediamo un po'. Sì sì sì. Si sta facendo lavare l'auto. Aspetta che t'ho sentito. Cusi e porti pazienza. È una giornata difficile. Ho avuto la bella idea di sbloccare 826 lavori. Minchia è l'autolavaggio più lento dell'esistenza umana. Ma un dubbio mi sorge spontaneo. Gli pneumatici che io sto montando. Quando cocchio li ho comprati. Forse li ho rubati a qualcuno. Non ci è dato sapere. Ed è arrivato un altro cliente ancora. Con l'auto più verde. Credo sia verde. Tanto dal tonismo che io abbia mai visto. Ottimo. Questo appunto è 72%. E l'autolavaggio ha quasi finito. Spero che ce lo paghino bene. Guarda che la sua auto era anche già pulita prima. Mi piace che l'auto va avanti ma le ruote non si muovono. 35 dollari per un sistema automatizzato? Ma a me va benissimo ciccio. Devo solo sperare che nel frattempo i clienti non stiano andando alla cassa. Eccolo là che intanto il cliente sta andando via. Ottimo. Aspetta che devo andare a tavola più veloce. A posto. Sì stanno andando alla cassa. Signore lei aspetterà un attimo. Porca la miseria l'ho già servita prima. Oh no. I nostri scaffali sono tutti vuoti purtroppo. Lo so. Lo so. Porti pazienza. Andiamo sul Zonama e ordiniamo. Un po' di cereali. Patatine. Cioccolata in grande quantità. Le bibite. 127 dollari. Porca la miseria. E un po' di sandwich. Ok. Ordine in arrivo. Signore mi paghi solo la benzina e si levi dai maroni. Porca la miseria. Anche lei lo so. Gli stand sono vuoti. Ciccio. Non è che se li guardi un altro po' compare del cibo eh. Cioè se pazienti un paio di minuti ok. Perfetto. Ecco i queridi Bartolone che nel frattempo stanno arrivando. Cambiamo l'ultimo pneumatico e vi sarò tutti felici e contenti. Oh no. Mi sono di nuovo dimenticato di togliere le cose della pompa di benzina. I tubi. I serbatoi spetti. Altrimenti non mi arrivano altri clienti. A posto. Lei può andare. Ottimo. E mancava anche lei. Olè. Allora potremmo in effetti forse levelappare la nostra pompa. Vediamo un po'. 400 dollari. Ma io una levelappata gliela do anche. Ora è doppia. Possiamo servire due clienti? Nello stesso momento. Eh ma allora ditelo che mi odiate. No. Perché ho sbloccato sta struttura. Mentre invece l'altro tizio sta andando all'autolavaggio. Più lento di tutti gli Stati Uniti. Non so nemmeno dove siamo onestamente. A causa dell'inflazione i prezzi del gasolio saranno aumentati del 6% per i prossimi due giorni. Ti sto odiando profondamente. Maledetta inflazione che mi perseguita anche negli stracocchi di videogiochi. Aspetta che è arrivato un cliente. Anzi se ho visto bene ne sta anche arrivando un altro. Ok. Buono. Ah beh quanta benzina ci abbiamo. 29% e sta scendendo molto ma molto rapidamente purtroppo per me. Guarda che spettacolo. Le 826 pompe sono letteralmente dovunque. Vai. Il problema è che la nostra giornata lavorativa è quasi finita. Dopo le 18 qua calano le tenebre. E dobbiamo sempre lasciare da parte i 35 dollari per la banca. Altrimenti siamo nella M più totale. E voilà. Un altro centone. Oh che fatica la mia vita. Wow è arrivato un altro cliente ancora. E boni 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 boni. Porta pazienza. Ah a posto. Signacali. Ottimo. Ma questo lo posso... Ok lo possiamo già togliere. Eh scusi porti pazienza signora che è una giornata difficile per tutti. E voilà. Ah mi sta già laggando il gioco. Scusi. Scusi. Scusi c'è un ladro. Aio c'è un ladro. Ma ti pare il caso. Ma mi prendi per il culo. Ma il ladro no. Ma porca di quelli per porca. Aspetta che non ho rifornito gli stand. Scusi. Scusi devo rifornire gli stand. Porti pazienza. Sgnaca tutto. Sgnaca tutto quello che abbiamo in magazzino. Ui là ho comprato l'infinito e oltre. Olè. A posto. Signorina se pazientava 10 secondi poteva anche comprare qualcosa lì. Completiamo la transazione. Ottimo. Ah lei non compra nulla. Lo dica allora che bastarda. E mi odia nel profondo. Allora. Visto che abbiamo un bel po' di capitale. Ne approfitto. Per comprare un po' di benza. Vediamo un po'. 200 dollari di benza. Ma non di più perché costa inflazione di M. Signora non le ho messo la pompa. Scusi eh. No forse lei è un'altra cliente. La prima cliente che è anche vestita bene peraltro. Non mi mettete sotto mi raccomando. Se ho visto bene sta arrivando anche il furgone che ci riempie il serbatoio. Premi F per spingere. Perché dovrei spingerlo? No 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 no. Non facciamo cagate che magari poi si bugga. E grazie della benza. A posto. Un altro con una gomma da cambiare. Ma porca. Ehm. Non per criticare. Ma direi che le viti che sto rimuovendo sono nel punto sbagliato. Ahia di nuovo la polizia. Questo mi fa pensare che in futuro probabilmente potremo vendere della merce di contrabbando. Ok. Altri 50 dollari. Aspetta. Cliente nuovo? E direi di boh. Sì. In effetti sì. Sniacca qua. E ole. Ottimo. Questo è arrivato al 100%. Sì. Aspetta che gli cavola la pompa. Vai. Signorina. Come è arrivata? Scusi. E come cosa guida la macchina? Scusi eh. Lo domando per un amico. E' a posto. Ora abbiamo un cliente all'autolavaggio. La polizia non ha trovato nulla di illegale. Perfetto. Questo posto puzza. E ragazzi. Ne rompete i maroni. Ma porca di quelli per porca. Appena possibile gli do una sistemata. Ecco qua. Si cucchi le sue sbringles. E mi paghi come non ci fosse un domani. Ok. Abbiamo avuto degli incassi di tutto rispetto. Altri 77 dollari. Ma qua possiamo avere un po' di luci. Scusate. Non poteva pazientare 10 secondi. Perché venite qua per comprare ste cagate? Che mi fate solo perdere tempo. Ok. Un altro cliente al 100%. Oh oh. Sono quasi le 18. Questo dovrebbe essere a posto. Gnacca qui. E quell'altro sta già partendo. Aspetti signora. Non mi metto sotto. Scusate. Ma posso dare una deodorata anche qua dentro? Eh. Non lo sapevo. Si lo so. È un po' buio dopo le 18. Portate pazienza. Che sto dando una bella deodorata all'ambiente. Oh. Al sapore di tonno è andato male. Ma vabbè. Dettagli. Ecco qui. Wow. Abbiamo fatto un bel po' di dindini quest'oggi. Signora. Vuole pagare anche lei? Ci guardiamo negli occhi e ci innamoriamo e fuggiamo via. Non lo so nemmeno io. Cosa vuole fare? Deve pagare. E paghi non rompa i maroni. E' buggata lì. Alleluia. La signora si è sbuggata. Ecco qua. Fanno 109 dollari. Wow. Ottimo. 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 Abbiamo un bel capitale. Io però me ne vorrei tipo tornare a casa. Porti pazienza. Perché sono calate un po' tanto le tenebre. Signore. Si levi dei maroni che è tipo tardissimo. Ma ti pare il caso di rimmi qua rompere le balle nel cuore della notte? Oh. C'ho la fidanziata a casa che mi aspetta lì. Tutta caliente. Certo che il comune dovrebbe comprare un po' di lampioni. Cioè da ste parti di notte la tristitudine appalate. Anche noi dovremmo mettere un po' di lampadine in casa. In realtà non so se possiamo personalizzare la nostra tristissima abitazione. Domanda da un milione di dollari. Presumo che la banca i soldi se li riprenda in automatico alla fine di ogni giornata lavorativa. Giusto? Perché il gioco non ha detto nulla. Quindi mi salgono un po' i dubbi. Salve. Sono il telone del giorno dopo. Ho editato il video che avete visto fino a questo punto. E confermo che durante la notte la banca mi è entrata in casa e mi ha ciulato i 39 dollari. Quindi. Yay. Da quel punto di vista siamo a posto. Allora siccome mi manca qualche minuto di video. Ne approfitto per cercare di mettere da parte un po' di dindini. E buona parte dei potenziamenti casomai. Li rimandiamo al prossimo episodio. Come ho detto è un po' grezzo come gioco. Non ha la grafica bella e faiga di Gas Station Simulator. Gioco che peraltro la gava schifo eh. Ecco qua. E le prime versioni erano comunque abbastanza grezze. Cioè in teoria questo distributore dovrebbe essere più lento di questa nuova versione. Quanto mi costerebbe comunque potenziarlo. Adesso dove arriva? Ma tutti credono tutti driblando eh. Drifstando eh. Non vivi a più termine porca la miseria. Scusate eh. Portate pazienza. Eh guai che non praticamente chiuso occhio stanotte. Ottimo. Fin qua tutto bene. Dobbiamo decisamente invece trovare abbastanza capitale per potenziare questo. Ah possiamo anche bloccare alcune strutture. C'è chiedito disabled in effetti. Ah. Non ho capito perché nessuno è venuto qua invece a farsi lavare la macchina. Vanno tutti a quello automatico. Oh meglio così eh. Mille dollari per migliorarlo. Ma porca di quelli per porca. Signorina scusi non l'avevo vista. Porti pazienza. Ecco qua. Cioè è venuta qua a comprare dei sandwich. Scusi eh. Forse dovrei avvisarla che quei sandwich erano lì da una settimana. Non abbiamo un condizionatore. E non abbiamo un frigorifero. Quindi come ho detto so che lì possiamo comprare. Se andiamo su Zonama. C'è il cooler per 300 dollari. Ma lo acquito direttamente. Il prossimo episodio. Buongiornissimo. Una lattina ed una barretta di... Non so neanche che nomi hanno messo. Sono troppo strani i faighi. Una cosa è certa. Dobbiamo potenziare ancora una volta la pompa di benzina. Salve signorina. È sempre quella mezza ignuda. Vedi che allora ci sta provando con me. Dicevo. Dobbiamo assolutamente potenziare la pompa in modo tale da servire. Quanto meno 4 clienti. Poi quando avremo espanso il tutto. Sì perché ci verranno fuori 76 settori. Qua serviremo anche che ne so 10 clienti nello stesso momento. A quel punto una volta assunti i vari dipendenti saremo a cavallo. Oh poi a cagna. Abbiamo ancora il 10% di carburante. Vediamo di comprarne giusto un ciccinino. Non troppo perché c'è ancora il problema dell'inflazione. Nel prossimo episodio vi garantisco che qualche dipendente lo assumiamo. Sicuramente qualcuno la pompa e magari anche una signorina che si occupi delle pulizie. Perché non è che ho voglia di stare qua con la scoppa in mano tutto il giorno. E che cocchio. Anche perché in sto gioco faccio un po' di fatica santo dal tonismo a vedere le macchie. Brava brava. Continua a slavare la macchina che le hanno tipo scagazzato le mucche sopra. Veloce 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 che devo rifornire il serbatoio. E voilà. Ok. Della serie meglio che niente. Ah sei venuta qua solo per comprare un paio di cagate. A posto. Teniamo sotto controllo anche la situazione ladri. Per questo episodio non mi è piaciuta ma proprio per niente. Ah io ho il terzo cliente pure. Sì ci serve anche un cassiere. Signora non siamo il Conad. Non venga a fare la spesa qua. A posto posso tornare a fare il mio lavoro? Grazie. È molto gentile da parte vostra. Nel frattempo sono arrivati anche altri clienti. Allè. Lei sta partendo. Questa dovrebbe aver finito. Signa che ha tutto dentro. Ottimo. Prima o poi qualcuno partirà col tubo della pompa ancora inserito nella macchina. Che non so come faccia a capitare nella vita vera. Ma capita. Potevamo mettere il self service. No. Devo venire qua anche a cavare la manichetta. Ok. Qua sono tutti a posto. Lei dove va? Venga. 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 Tutti che driftano eh. Non sanno parcheggiare l'auto in modo normale. Che cocchio. Ecco qua. Ottimo. Intanto l'altro cliente sta partendo. Ti salgo sull'auto di perpotenza? Ah. Non funziona. Premi F per spingere. Che punti. Devo provare. Devo provare assolutamente. Wow. Ok. La spinta funziona. Cosa vuole dalla mia vita? Cosa devo fare? Devo pulirti la macchina manualmente? Ah. Perché l'autolavaggio è occupato? Ok. Quindi cos'è? Devo tipo insaponare tutte le zone così. Perfetto. In maniera molto sexy. Ti piace quando ti pulisco con la mia grande e grossa spugna? E poi schizzo con l'idropulitrice? Che succede? Bill exists. Ci sono delle fatture da pagare. Perché non funziona l'idropulitrice peraltro? Quando ho registrato ieri sera funzionava porca la miseria. Però mi sembra che possiamo comunque pulire con la spugna. Vedo che pian pianino le macchie spariscono. Cos'è sta truffa di proporzioni bibliche? Non mi dite che devo anche muovere il mouse? C'era una macchia qua ma non la vedo signora. Scusi. Ci sono troppe bolle. Ok. Lei paziente un attimo. L'ho detto io che dovevo assumere qualcun altro. C'è una leggerissima fila alla cassa. Vi prego. Ma lei è venuta a coprire una lattina ma la picchio male. Dicevo. Vi prego. Non dateci recensioni negative. È un mondo difficile per tutti. Bollete di cosa? Non mi dite che devo pagare anche la luce e altre cose? E voilà. A posto abbiamo superato il millino nel frattempo. Sì grazie al prestito della banca eh. Sennò manco per il cocchio che ce la facevamo. Aio. È arrivata la nonna. Nonna buongiorno. Mmm. Che belle gambe sexy porca la miseria. Perfetto. Cava il tubo da qui così la cliente può ripartire. Devo capire perché l'idropulitrice qua non funzioni? Sì. Devo pagare la bolletta dell'acqua e la bolletta dell'elettricità. No. Ok. Eh sì. Ma non mi metta sotto. Poteva anche pazientare 10 secondi. Ora che ho pagato la bolletta dell'acqua potete vedere che posso terminare il lavoro sulla macchina del cliente. Oh no ti sto odiando profondamente. E presumo ovviamente che maggiore la quantità di lampadine e luci che monterò all'interno della stazione o all'esterno e maggiore sarà la bolletta della luce. Signora le vedo i piedi attraverso la macchina. Porti pazienza. Le faccio le fotine e le pubblico su OnlyFan. Ma vabbè dettagli. Ok. Un altro centone incassato con successo. Anzi 105 perché ho alzato leggermente i prezzi. Speriamo che i clienti non si incocchino. Lo so signora. È un attimo però eh. Sanno davvero da domani voglio assumere 8 milioni di dipendenti. Tanto la giornata lavorativa è quasi terminata. Posso andarmene? Grazie. No. Ovviamente non sembra tutto bello. A posto. Un altro cliente soddisfatto. Ora posso alzare la testa che mi sta venendo un torcicollo incredibile. 1358 dollari. Sono felicio. Ed è arrivato un altro cliente. Ad ogni modo signori direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Ci voglio la vita registrare questo gioco che voi non avete effettivamente idea. Ma siamo appena agli inizi. Sono sicuro che una volta che avremo comprato tutti gli upgrade e via dicendo. Sto posto diventerà incredibile. Peraltro una volta che avremo assunto i dipendenti potremo servire i clienti più velocemente. Il che vuol dire che altri clienti arriveranno e quindi guadagneremo passivamente molto ma molto più denaro. Pertanto figlioli nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace altrimenti non vi lavo la macchina e via dicendo. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.